Buongiorno da Piercaro Lava, oggi sono alla Coldiretti con Emiliano Bracco, vice direttore. Buongiorno. Buongiorno a voi. Quando è nata la Coldiretti, chi rappresenta, quanti sono oggi gli associati in provincia dell'Alessandria e qual è la mission? Coldiretti è nata circa 70 anni fa, in provincia dell'Alessandria rappresenta circa 7.000 associati, rappresentiamo circa 7.000 associati, la missione di Coldiretti oltre a essere quella di rappresentare e tutelare quelli che sono gli interessi della categoria degli agricoltori, negli ultimi tempi è diventata anche e vuole essere un pochettino forse qualcosa in più e pensiamo di poterlo dire, riteniamo di essere anche sotto certi punti di vista una forza sociale, non solo per il mondo agricolo, ma per tutti i cittadini. Ecco, ma parliamo della contraffazione che rappresenta un problema, quali sono oggi i prodotti maggiormente agricoli, maggiormente colpiti, quali le dimensioni del fenomeno, i danni degli agricoltori e quali i rischi per i cittadini? Allora, la contraffazione è sicuramente uno dei problemi più seri che sta colpendo, io direi, non soltanto gli agricoltori che noi rappresentiamo, ma è un danno per l'intera nazione, per tutti i cittadini. La contraffazione va a colpire soprattutto quei prodotti alimentari, le faccio qualche esempio, quelli che potrebbero essere i salumi, i malvini, i formaggi. Ricordiamoci che noi abbiamo delle eccellenze e pertanto forse qualcuno direbbe oltre il danno anche la Vefa, perché? Perché comunque ci vediamo sottrarre dalle nostre tasche, dalle tasche degli agricoltori un'affetta importantissima che si aggira intorno a 60 milioni di Euro, parliamo di territorio nazionale. Ecco, mi pare che ultimamente sia uscito anche un vostro articolo sulla questione delle patate, perché anche lì c'è un problema. Non dimentichiamo che produciamo in Italia, non riusciamo a produrre quello che fa bisogno nazionale, pertanto noi riteniamo che in qualche modo se le patate non riusciamo a produrle totalmente, se devono essere importate, vogliamo che il prodotto che poi arriva e circola in Italia sia ben identificato. Cosa significa? Significa che le patate che arrivano dalla Francia riteniamo non sia corretto solo perché trascorrono qualche ora e respirano la battuta un po' d'aria alessandrina e poi diventano patate italiane. Noi vogliamo incidere su queste cose. Ecco, ma cosa dovrebbe fare a vostro avviso la politica proprio per intervenire seriamente sul problema della contraffazione? Beh, delle regole chiare. Chiaramente vorremmo che ci fossero delle prese di posizione, l'epichettatura dei prodotti, sempre lasciando poi al cittadino la volontà di consumare italiano o meno. Noi vorremmo che quando un cittadino arriva in un supermercato e decide di acquistare un prodotto sia nelle condizioni per poterlo fare sotto questo profilo. È italiano, mi posso permettere il prodotto di qualità, il prodotto sano, il prodotto salvo e lo compro. Voglio comprare qualcos'altro, ma ci sia un qualcosa che sia ben visibile e che soprattutto mi metta nelle condizioni per scegliere. Cioè, libertà di scelta ma a monte una corretta informazione. Sì, chiaramente. Che le regole e leggi ben chiare. Che attualmente non ci sono. Ecco, Campania Amica e Impresa Verde sono progetti strategici della Col di Retti. Ce ne vuole parlare? Ma Campania Amica e Impresa Verde sono progetti nati negli anni 2000, appena prima degli anni 2000, ma in sostanza sono i nostri cavalli di battaglia, come vogliamo dire. Allora, Campania Amica è la gruppa, possiamo definirlo, anche se non mi piace utilizzare magari termini che non derivino da quello che è il nostro modo. Comunque è il brand di Col di Retti che va a identificare tutte quelle produzioni a chilometro zero e pertanto mette nelle condizioni il consumatore di poter scegliere e quando vede Campania Amica sa che arriva dal prodotto del territorio. Chiaramente su Campania Amica potremmo parlare magari anche, però i tempi sono quelli che sono. Impresa Verde. Impresa Verde è una società di servizi di Col di Retti. Impresa Verde è tutto quello che il socio si può aspettare da Col di Retti sotto un profilo come dicevo prima di servizi. In provincia di Alessandria abbiamo 7 uffici zona dove ci sono i nostri collaboratori che riescono a dare servizi a 360 gradi, sia nella gestione di quello che è l'azienda agricola. Pertanto tutti i fabbisogni dei nostri associati coltivatori sia per quanto riguarda i fabbisogni di un libero cittadino. Le faccio classiche esempi. Impresa Verde fa il CAI Impresa Verde fa il 730 e fa la domanda della PAC, va a dire spaziamo da un estremo all'altro. Chiaro. Per le nostre è un'associazione per l'agriturismo promossa da Col di Retti. Ce ne vuole parlare? Sì, della nostra è nata circa 40 anni fa, su volontà ed è espressione come diceva lei di Casa Col di Retti, raggruppa in sé tutti gli agriturismi che in qualche modo sono portatori delle nostre volontà. Cosa voglio dire? Mi aggancio al discorso di campagna amica. Gli agriturismi devono utilizzare i prodotti del territorio, devono utilizzare i prodotti dell'azienda agricola. Non dimentichiamo una cosa importantissima e penso che questo abbia un significato estremamente importante. Un agriturismo può essere tale solo se dietro c'è un'azienda agricola. Perciò, l'azienda agricola, l'agriturismo viene considerato un'attività collaterale. E questo è importante sottolinearlo. Bravo. Anche perché l'agriturismo ha lo scopo di utilizzare i prodotti dell'azienda agricola. E non di comprarli sui mercati. e soprattutto ha lo scopo di quali benefici deve dare all'azienda agricola. E uso termini molto. Non andare a vendere i prodotti su quello che può essere un mercato che non è remunerativo per l'azienda agricola. Lavorali, trasformali e somministrali sotto il profilo di pasti. Consideriamo che l'agriturismo, tra le attività che può svolgere, può svolgere la somministrazione di pasti e bevande, il permottamento e il maneggio cavalli. Per finire, Benvio ad Alessandria in Piazza Libretà si inaugura il nuovo agrimercato di Campagna Amica che praticamente possiamo riassumere dal produttore al consumatore, direttamente nel cuore della città. Ce ne vuole parlare? Sì. Il mercato di Campagna Amica, fortunatamente uso questo termine, stanno lievitando. Ma perché? Perché c'è il consenso del cittadino che in qualche modo apprezza e riesce a valorizzare al meglio quelle che sono le produzioni locali. Col diretto di Alessandria da diversi anni sta portando avanti i mercati di Campagna Amica. Lo stiamo facendo in linea di massima su tutti i capoluoghi zonali. Mi viene in mente Tortona, mi viene in mente Casale, mi viene in mente Valenza. Abbiamo un mercato di Campagna Amica anche ad Alessandria da diversi anni, qua nei nostri, praticamente di fronte ai giardini, di fronte alla nostra sede. Venerdì prossimo ci sarà l'inaugurazione del mercato in Piazza della Libertà. Penso che sicuramente sia un punto strategico anche per il cittadino, penso che sia un punto di massima visibilità, per questo io penso di dover ringraziare anche tutti i colori che ci hanno dato una mano e hanno collaborato e in qualche modo condividono le nostre iniziative. È un momento importante, è un momento importante perché riusciamo ad arrivare direttamente al consumatore mettendoci la faccia, come si vuol dire. Perché comunque oltre a vendere le aziende agricole, i nostri associati, oltre a vendere il loro prodotto, che riteniamo sia un prodotto sano e salvo, vengono un pochettino anche da loro faccia, perché comunque sono loro direttamente che raccontano come è andata la produzione, come si coltivano i prodotti, che tipo di prodotti si utilizzano per coltivare questi e pertanto direi che dovrebbe essere il modo migliore per un approccio con i cittadini. E che sarà un mercato continuativo e con che pedagogità? Consideriamo una cosa, viviamo in provincia di Alessandria, io sto parlando di Alessandria, sto parlando di una provincia dove sicuramente ci sono parecchi prodotti, chiamiamoli di nicchie, parecchi prodotti che hanno anche un valore aggiunto, tipo il vino, tipo i formaggi, tipo i salumi, ma non dobbiamo mai dimenticarci che siamo dei produttori agricoli. Cosa significa? La provincia di Alessandria in certi periodi dell'anno, magari in qualche mese dell'anno, non può offrire quello che magari offrono altre province, altre regioni. Dobbiamo essere seri, noi vogliamo essere seri e soprattutto vogliamo, come le dicevo prima, non solo vendere i prodotti e quelli che sono prodotti seri, salubri e sali, ma vogliamo vendere anche un minimo di rapporto, di informazione, certo e cosa voglio dire? Voglio dire al mese di gennaio forse a casa nostra, io dico i finocchi non ci sono, non li vendiamo, perciò i mercati andranno sicuramente avanti. Penso che se sia trovata anche la volontà da parte di tutti di andare avanti in modo serio, sul futuro poi io le posso dire, l'unica cosa certa che oggi le posso dire è che i mercati sono in aumento, nel senso che siamo partiti con qualche mercato, oggi ci troviamo ad averne, non ricordo esattamente il numero, ma qualche decino. Quindi le prospettive sono otte? Sì, sono sicuramente otto, anche perché poi chiudo, diciamo che i nostri associati si rendono conto che essere produttori corretti, seri e potersi confrontare direttamente col prodotto, con il consumatore è sicuramente una carta che paga. Premia. Bene, la ringrazio. Grazie a voi.